Buonasera, saluto tutti voi ancora una volta dal teatro Pavarotti-Freni nella città di Modena, città del Belcanto, è un'altra serata importante per la nostra comunità perché ricordiamo ancora Luciano, lo facciamo sempre volentieri, lo facciamo per ricordarlo nel momento della sua nascita, 86 anni fa, nel suo percorso di carriera straordinario dalla corale Rossini al mondo e ritorno, perché alla fine lui e Mirella Ferini hanno sempre amato Modena al punto che non hanno mai abbandonato la nostra comunità, siamo sempre stati insieme alla nostra comunità e quindi questa sera siamo insieme a Luciano, siamo insieme a Luciano e soprattutto siamo insieme ad un grande investimento del futuro, che sono i nostri giovani, che lui amava tanto e che in qualche modo ha investito un pezzo della sua vita per sviluppare questo. Siamo qui con l'orchestra della Via Emilia, ragazzi vi ringrazio tutti e tutte, credo che sia un bellissimo progetto, un progetto di quattro conservatori della Via Emilia, Modena, Reggio, Parma e Piacenza, ringrazio i presidenti, i direttori, i rappresentanti dei conservatori che sono qui con noi questa sera, credo che sia un bel progetto in questo momento dopo Covid, avere qualcuno che si mette insieme, che vuole elaborare un po' di positiva energia con la musica e con le canzoni, credo che sia estremamente importante e poi è importante anche il collegamento che ormai stiamo costruendo, per esempio con l'Università d'Angers, credo che questo sia un fatto importante, abbiamo oggi avuto dei momenti anche già di contatto con la presentazione del libro delle ricette di Luciano, insieme all'Università di Angers, la nostra Università, il Teatro, la Casa Museo Pavarotti. Il 30 aprile prossimo anno andremo e porteremo ad Angers, che cosa? Porteremo qualcosa di straordinario, l'aggancio con Angers è arrivato da Mirella, perché la storia poi è importante e oggi noi stiamo riflettendo ancora per investire su un patrimonio che è quello delle nostre radici migliano-ormagnole, di Modena in particolare, che è il tema dei gusti, la buona e bella musica, il bel canto, che siamo città del bel canto e soprattutto del gusto della buona tavola, che mi sembra che attraversi anche compiutamente tutti i comuni dei conservatori, quindi credo che questo sia un altro elemento importante e soprattutto quanto piaceva la cucina a Luciano, insomma, perché poi anche questo è un altro delle connessioni di straordinaria vita. E noi questa sera parliamo di vita e quindi noi questa sera dobbiamo pensare che dobbiamo gioire, raccogliere emozioni, uscire di qua, sapere che stiamo mettendo all'angolo il Covid, che abbiamo una responsabilità complessiva di tutti noi, che pian piano stiamo riconquistando i nostri luoghi qui nel teatro, lo facciamo pian piano, ci sono ancora delle paure, delle preoccupazioni, intanto riceviamo delle telefonate, ma chi ho vicino? Noi garantiamo che tutti quelli che sono vicini a noi sono persone che hanno il Green Pass, sono persone che sono responsabili, sono persone che vogliono la salute come tutti noi e che vogliono il bene della nostra comunità come tutti noi. Quindi davvero grazie, buona serata. Io naturalmente vi chiedo un ultimo applauso al maestro Sesillo, perché alla fine se tutto questo avviene, è tutto il maestro. E quindi i due soci, la Fondazione di Modena, ho visto Paolo Cavicchioli prima, e naturalmente siamo molto orgogliosi di tutto questo, perché riteniamo che stiamo rafforzando delle radici per continuare a costruire il futuro. Quindi vi ringrazio di cuore e davvero buona buona serata. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Le corsi affanni, le corsi affanni compenso avrai, le corsi affanni compenso avrai la tua salute, la signorina. Grazie. Applausi. 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 Grazie. 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 Grazie.